il giorno e la storia oggi è il 10 dicembre 1520 martin lutero brucia pubblicamente la bolla papale exurge domine 1926 stoccolma grazia del edda insignita del premio nobel per la letteratura 1948 firmata a parigi la dichiarazione universale dei diritti umani commenta il fatto del giorno nunzia vallini direttore del giornale di brescia 170 anni fa si alza al cielo per la prima volta il canto di mamele il canto degli italiani